benvenuti siamo al secondo episodio di questo display cosa abbiamo fatto nel primo abbiamo superato praticamente tutta l'introduzione noi abbiamo trovato il nostro unionista working impergolato senza che che lui volesse in una guerra fra un impero diciamo dei cattivi diciamo a est e a ovest invece questa alleanza democratica lui il gioco si sforge in una piccola nazione di nome gallia che è una nazione neutrale che si ritrova ai confini dell'impero e poiché è ricca di una di un minerale che ho usato in questo mondo il nome era ignite l'impero lo attacca fondamentalmente cerca di invaderlo finora abbiamo semplicemente giocato tutto l'introduzione abbiamo conosciuto il nostro protagonista quel king che è un professore appassionato di natura e studia università biologia letteralmente la nostra credo protagonista di malicia dice che è una diciamo era una guardia cittadina della città natale in cui siamo cresciuti anche noi e città natale che è andata perduta all'impero dove questo è stato invaso dall'impero e dopo essere fuggiti dalla dalla città siamo riusciti a fuggire dalla città grazie anche all'ausilio del carro armato di working che il padre ha lasciato un canale armato in garage così cose di tutti i giorni ok siamo appena dopo l'introduzione vediamo cosa ci aspetta come vedete sono proprio letteralmente sulla su dove eravamo ok nuova scena vediamo cosa succede ok marzo del 35 l'impero invade gallia dalla da est ok come il comandante dell'invasione galliana maximiliana e ha costruito il suo esercito sulla mobilità e quindi tutte velocemente ha conquistato ha fatto cadere tutte le fortresse la caduta di brul che la cittadina dove siamo nati in due ore è tipico di questa diciamo di come l'impero si muove in questo senso militarmente blitz neck quindi fondamentalmente sono i tedeschi l'andrex capitale di gallia al centro c'è il castello dove vive la principessa cordelia no ok fondamentalmente gallia c'è il sistema svizzero è una nazione neutrale ma tutti i cittadini durante la scuola non c'è anche quella dell'obbligo diciamo dalle superiori in poi devono farsi dei mesi di addestramento militare per essere pronti e eventualmente unirsi all'etercito alla milizia stessa cosa è accaduta a noi quindi siamo stati arruolati fondamentalmente ho saltato tutto scusate no 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 sì credo sì scusate ho saltato senza accorgermi di tutto rivediamo abbiamo il castello la principessa quindi qua abbiamo detto il sistema militare di gallia e svizzero l'ispezione svizzera ok quindi di altre scuole superiori da superiore in su hai dei mesi di addestramento militare poi può essere reclutato in caso di bisogno e sia i welking statunista che alice sono stati regolati ok qua erano qui appunto quindi questi sono i miei nuovi vestiti ah uniforme è anche abbastanza c'ha già dei gradi quindi è abbastanza alto livello ok ci cambiamo prima di fare diciamo di presentare alla presentarci quindi presentarci ci cambiamo ok binocolo compass bussola e mappa più un razzo di segnalazione tutto quello che può servire per avere una bella passeggiata nei boschi o combattere guardate ci servono le armi anicia anicia è arrivata ok puoi entrare stiamo bene apparentemente con il giorno e lei ci chiede se anche lei sta bene il nostro giorno guardiamo eh sta bene come tutta la ragazza veramente non lo stai dicendo per dire no stai bene veramente mi piace era preoccupata di apparire un po' di non di non starci bene ho detto è qualche che è fatto così osserva che la la corazza che ha dietro la schiena sembra quella di uno scarafaggio non l'ha preso bene non l'ha preso bene lì c'è è così è passerato di natura quindi per lui probabilmente è anche un complimento infatti per lui era un complimento dire che se che somiglia non l'ha preso che cosa faccio faccio amici abitoli vedete chi ne è così ok da prendere bene dice ok è vero c'è sempre una fascia nei capelli ah ok la fascia nei capelli era parte della sua uniforme quando faceva la panettaia lo tiene come ricordo per ricordarsi dei tempi in cui faceva la panettaia il suo compito maggiore era sfornare pane quindi ci tiene a tenerla fin quando non tornerà a fare la panettiera ok ha detto che sarà il primo a mettersi in fila quando succederà ok la dici apprezza ok andiamo a vedere il capitano allora siamo in uniforme siamo pronti andiamo al capitano ok che era questa ok femmina ok ok hunter pronto per l'azione anicia pronta per l'azione capitano donna abbiamo capitano del reggimento quindi certo livello siamo stati appena promossi i due potenti eh è anicia sergente è stata rapida come promozione è stata veramente rapida ok ah qualcuno che ci conosce conosciamo Paldia si è arruolato appena è froppiata la guerra ah compagno di università qualche era in scienza e lui era in arcologia ok adesso niente archeologia o scienza guerra ok c'è un briefing dopo ok tempo di farsi un giro tempo di farsi un giro eh abbiamo un briefing dopo fino ad allora possiamo già eh no o meno baracche possiamo vedere l'equivaggiamento o informazioni sul resto della squadra scegliere i membri della squadra eh allenare le unità e l'equivaggiamento ok iniziamo dalla baracche che abbiamo in squadra abbiamo quattro di loro noi più tre Alice la conosciamo Rosy è largo c'è l'equivaggiamento il ruolo sono comandante di cane armato Alice è una scout Rosy è una batteria più o meno largo lanciere qualsiasi lanciere e posso vedere altro c'è un A senza l'info ah caratteristiche abbiamo tutti quanti hanno delle caratteristiche allora quel chi ne ama la natura quindi è potenziato sei in mezzo alla natura c'è un ed è calmo quindi rimane sempre calmo in comando quando comanda Alicia è una ragazza di campagna quindi anche lei se non in città è più concentrata e ha più precisione ed è materna quindi se ha dei amici vicini diventa più forte è allergica alla sabbia al deserto alla sabbia in particolare quindi non amassare nei deserti è una sorella maggiore per tutti e quindi se è vicino a altra fanteria si potenzia e prende meno danno sul fuoco di risposta largo è anche lui campagnolo quindi però è diverso da Alicia lui invece ha svantaggi se è in città ok è un buono quindi ah no c'ha gran resistenza quindi anche se va a zero è resuscita una volta c'ha una vita extra ed è un buon soldato quindi se c'ha alleati vicini si potenzia diciamo ok andiamo il resto comanda ok è bene stai facendo conoscenza benvenuto ok questa è la stanza di comando solo per spieghere la tua squadra ok abbiamo recrute sia volontario che diciamo che diciamo semplicemente intervolate per leva siamo solo in quattro per dentro però ok speriamo come funziona ok c'è una lista di possibili diciamo possibili soldati da prendere e sono state divise in classi yeah ok cinque classi ok gli scout ok gli scout sono rapidi grande mobilità ottima osservazione e possono scoprire dove sono i nemici ma sono debolucci come come potenza di fuoco ok quindi più più sono scout verici devo andare lì vedere il nemico e cercare di non farsi beccare batteria ottimo attacco tuttima difesa le fanteria media non hanno cose speciali un buon attacco buona difesa ma nessun punto deboli diciamo né eccezionali nei punti deboli lanceri lanceri ah anticarro contro anticarro ok ok è la fanteria anticarro ok sono proprio specializzati anticarro purtroppo sono deboli al fuoco nemico ok quindi anticarro specializzati in quello non soltanto contro carri armati sono buoni ok ingegneri supporto quindi via supporto e scorta e riforniti possono rifornire munizioni curare feriti e riparare carri armati ok disarmare i miei fanno un po' tutto tranne combattere invece ok possono fare un po' tutto tranne combattere sono come scout hanno altri ruoli scout devono osservare i nemici questi devono fanno un po' tutto il supporto cecchini ok grande distanza di ottima potenza di fuoco grande distanza ok ok c'hanno anche i mirini telescopici poco mobili e nessuna difesa ok devono essere scortati fondamentalmente difesi ok ok cinque classi quindi scout che sono rapidi ma poca potenza di fuoco immagino anche poca difesa la fanteria via di mezzo che fa un po' né buono né cattivo la base i lancieri sono la truppa anticarro gli ingegneri sono supporto immagino abbiano anche loro grande potenza di fuoco difesa e fine qual è l'ultimo i cecchini che vanno dalla distanza ma non sono non hanno grande difesa e mobilità ok 20 20 20 vediamo un po' ok un attimino che metto in pausa devo rispondere al telefono ok eccomi qua dicevamo vediamo quanti ne abbiamo un sacco di scout buon numero di fanteria abbastanza non c'è di abbastanza solo due cecchini però 20 a me piace avere sempre in serie matematica quindi 2 più 3 più 4 più 5 più 6 giusto? sì giusto 2 più 3 5 4 9 5 4 10 6 20 perfetto ho già uno scatolo non c'era una ok i due cecchini prenderò tutti e due ho messo potenziali è cresciuto nel deserto quindi se nel deserto è più agile si muove meglio è più forte nell'attaccare altri cecchini o di dark sand la nostra sorellina minore è una dark sand purtroppo non ho molto scelta allora marina allergica al polline quindi non sta bene dentro foreste e simi vede nella notte ma è una solitaria preferisce stare da sola se aveva leate vicini non ha meno agilità meno movimento e meno evasione ok beh ce ne sono due li prenderò tutti e due carina e cesare che è un maschietto ho visto anche una cosa ieri alcuni hanno diciamo preferenze di chi amicizie già dentro vediamo un po' lì c'è sempre con noce e dallas abbiamo dallas in effetti qua c'è una noce 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 nessuna noce no noce ce l'abbiamo qua ok possiamo prendere dallas tipo ho cercato di prenderne una a testa invece per esempio dallas ti piace alice anche edy vedremo che caratteristiche hai è allergica al deserto anche lei va bene ah è apprezzata dalle donne quindi avere ragazze vicino fa sì che le altre diciamo vanno meglio e ho dei uomini ah è di quel tipo ok ho degli uomini ama le donne cioè piace alle ragazze ok possiamo prenderla giusto perché è amica di alicia è un ingegnere quindi una delle ingegneri mi sembra anche molto giovane molto piccolina un ingegnere andiamo altri allora vediamo un po' facciamo felici anche rosy che sta con largo che sei già a posto cherry largo sta con rosy o annes cesary ama kevin e knut c'è un kevin e un knut c'è un kevin no, niente cherry no, niente cherry c'è i dieti? perché? ah, perché piace a Dallas ok andiamo avanti altri due ingegneri dai abbiamo un po' di scelta, abbiamo Claudia Nadine, Ransi ok aspetta, Carl era no, Knut non Carl ok, Carl e allora iniziamo da una cosa, voglio avere più ragazze ah, ci sono tre ragazze ciao a tutte ragazze proviamo, allora Claudia, Claudia è una cittadina, ama stare nella città ma è non ama stare nei campi è ok con Aisce e Dorothy Nadine allergica al polline però compare di altri ingegneri, sta bene con altri ingegneri e allega con i Dark Sand Nadine mi piace Ransi sta meglio vicino al metallo ma è fatalista se arrivano gli HP una sola non solo cioè sotto i 10 ma a quel punto non sarai più in campo allora Nadine è ok Nadine mi piace perché una mia amica no ok Nadine perché Dark Sandbomb sembra ok e Dallas sarà un'ottima amica ok eh, credo Carla e Lonely ah, bisogna avere o Kevin on-in Kevin on-in Kevin serve ok questo fobico però mmm per il sicuro con meno problemi beh direi Ramsey Ramsey non sembra avere grandi problemi ok abbiamo i nostri ingegneri andiamo qua abbiamo già uno altri tre abbiamo Niels grazie di città bravo se è dentro i campi è però è un solitario anche lui ok Walter nato nel deserto notturno ma pessimista Hector allegico al metallo ma è un comandante naturale sì ma sei un anticarlo non posso avere un anticarlo però non ha delcia proprio ha delcia il deserto ilisse ha degli scout è un buon dimensore a campo mhm quella è amica di Ramsey è amica di Ramsey adesso altro ok ora prendo Elisa prendo Yoko non c'ha punti deboli attualmente sono solo positive questo è una leader naturale come Hector Walter è pessimista ma per il resto non è bruttissimo Walter e Yoko facciamo Walter e poi vedo se c'è qualcuno alla fine ok ok abbiamo uno più altri tre altri tre di questi Nina sta bene con Rosina ok quindi è Campagnola Odio e Lanza è una difensice dei campi Dorothy è una metalhead quindi sta bene vicino al metallo ma è non è una che deve morsi molto spesso perché non è un grande un grande effetto posso prendere Dorothy mi sembra male ed Campagnola leader ma non ama attacca passare in mezzo al nemico al fuoco nemico ma è una leader più country bread e gli sembrano male mica per sinistra metà l'ergia anzi su ok kobe aica no alex bad buck no allora direi che prendo altri tre abbiamo detto allora Dorothy non è male non arrendo ed forse facciamo edy e vediamo chi ha più i legami Kevin andiamo a fare i legami giusto per cesani o salina salina serchilla annessa annessa amico di largo ho anness o salinas prendiamo anness anness scelto scout abbiamo altri quattro allora abbiamo sono al fondo aica amica di yoko e gallas yoko era una che l'ho preso giusto no largo volta l'amica di dallas ise allergica la polvere ma allergica al polline ma ok ha bisogno di avere amici vicino giuno metallo rosofonica ma born leader born leader è tanto buono ed è amico di welkin sedetto fresia nato al deserto e piace ai uomini suzi nelsy nelsy è tutta positiva giusto yeah completamente positiva nelsy dentro poi 234 un ultimo iniziamo a vedere se c'è gente che ha amicizie nelsy nelsy canna הרbet no salinas valter c'è valter no salinas se 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 ai camisa glielo con dallas mm cosa sembra di normali e buona l'erba a mi piace stare vicino facciamo fresia c'ho del desert brit, vediamo se c'ho già del desert brit qualcuno buono nel deserto è uno, un sacco di desert allergie e due un sacco di desert allergie però, è di pollen fresia non è, fresia sì adesso per completare, uno, due, tre no, un'altra nera allergie, no, non mi piace sì sì sì, è un'altra tutta positiva allora, chi ha più legami da i lancer? Yoko, c'ha Kobe, Aisha Aika Aisha Aika no, nessuno ok Rosina c'ha Nina, Hector c'è nessuno dei due da qui, Hector è qui Alex, Rosina Nils ok, nessuno in particolare quindi andiamo su BornLeader, Xanitha Longwolf non mi piace non è Longwolf andiamo su CampDefender, CityKid eh, potrebbe, dai, aspettiamoci poi Nina ci abbiamo usato Melvino, Sina no, Mika, Dorothy Eddy e Freysa questa Nina è sempre una buona scelta Rosetta la legge non c'è abbastanza, no di AfroKaterin Carl, Cesari se prenderò Aika yeah, altre sono fuori allora, prendo l'ultima di questa che sarà ah forse eh, badback non è più l'età iodo lassofobico prendiamo Nina che mi piace moltissimo ok, abbiamo due, tre, quattro, cinque, ok abbiamo uno scout tutto bene permesso nessuno Alex Nina Ted Alex Nina Ted Alex Nina Ted Davo Nina e basta Montrici Annanzi Ann nessuno vale la socialiscia no vediamo noce 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 superhead, badback le cose iniziali magari vuol dire che prende cose migliori ma inoltre pollinarci quanti ne sono tantissime sì pochino inoltre quasi evitata del tutto più desert più desert solo da dine pollinarci e marina ah non so ragazzi non so veramente permesso per fare senso uomini potrei prendere Yoko Yoko c'è la via Yoko c'è l'ho Yoko potrebbe prendere il posto di Nils c'è c'è per uscivola, non, non, ma che oggi intersiste, non, Ok, c'è il scout Femina, e il maschietto Pondarchi. E direi Hermes, non ha particolare amicizia, ma mi piace alle ragazze qui. Mettiamo dentro. Ok, direi che ci siamo. Ok, posso togliere e mettere gente dalla squadra liberamente, giusto? Ok, e non ho problema di livelli, non livellano, quindi posso svuppare quando voglio. Ok, e avrò anche nuovi soldati, ok? Vi ho un sacco di responsabilità. E fa addio, sì, la stessa situazione anche lui, uscite. Ok, attimo, muoviamoci. Credo che questo episodio sarà solo conoscere la squadra un po' meglio. Posso conoscere meglio la mia squadra? Ah, non molto. Più o meno l'abbiamo già visto. Beh, più o meno l'abbiamo già visto. Niente di più personale. Training. Vediamo sul training. Come funziona il training? Ok. Istruttore militare che subito mette in chiaro che sarà fatica e sudore. Ma niente batte la vera esperienza in combattimento, eh. Ok, quindi, si è, mano a mano si fanno le missioni, si torna poi qua, per addestrarsi. Ok, usi le esperienze, infatti vedo che sopra c'è l'esperienza a dotare. Quindi hai i punti esperienze per ogni altro facendo le battaglie. Ma nessuno che, una squadra è una, non c'è spazio per te queste pazze dentro la squadra. Ok, quindi si livella di classe. Tutti gli scout, o tutti, la fanteria, o tutti, è a livelli. Però è sulla classe, ok? Quindi, quando gli scout livellano, tutti gli scout livellano. Vabbè. Vabbè, se qualcuno si crede meglio degli altri, può andare a cazzo. Ok, vediamo come funziona. Ok, semplicemente spendo e divido i punti esperienze. Ok, quando si mette abbastanza esperienze, sarà di livello. Ok. Normale. Ok, sono io a decidere, ecco, come a decidere. Ok. All right. Ne ho abbastanza, credo, a livellare tutti. Vedete. Uno. Due. Tre. Quattro. E mi rimangono pure. Yeah, mi rimangono anche un bel po'. Yeah. Ok, è tempo di sudare. Niveliamo tutti. Dai, siamo un lello più vicino agli esseri umani dagli scherafaggi che siamo, ok. Nuovo potenziale nei lancieri, ok. E nei cecchini, ok. Lancieri cecchini. Lancieri cecchini hanno preso qualcosa. Lancieri cecchini, magari, livello di scout. Sutta e stop, direi. Suttare. Ok. Guardi, ho trovato qualcosa. Non ho guardi, ho trovato nient'altro, ok. Usciamo. Ok. Lasciamo, guadagniamo, esprimiamo, guadagniamo l'esperienza, lo usiamo qua. Abbiamo un'altra cosa, cioè. Ok, infatti, c'erano dei potenziali nuovi. Ci sono le abilità extra dei nostri soldati, ok. Quindi, aumentare i livelli per alloccare nuove abilità, ok. E qualche volta guadagno un nuovo ordine, l'ordine. Ok, guadagniamo uno gratis. E va a debut. Ok, posso darli, usarli come speciali, diciamo, comandi speciali. Che fanno un effetto quello guadagnato, aumentare la possibilità di non essere colpiti, eh. Ok, sì. Ovviamente livellare è la cosa migliore per guadagnare. Ah, però, se non l'avevo... No, fatto aperto questo. Pirla. Iampirla. Ok. Varebbe essere su, ok. Vedo il controllo, un attimo. Ok, sì. Adesso c'è anche l'audio del gioco, scusate. Dopo un'ora me ne sono ricordate. Ok, un attimo. Va a posto. All right. E abbiamo finito. Abbiamo potenziali nuovi. Va bene, venire. Ha detto ingegnere, cicchia... Eh, scusa, cicchini e lancini. Non guarda troppo cosa. Va a largo. Pierstide boost. Ok, quando usa il ragknight, c'ha più cosa. Stessa cosa. Lui ha anti-armor. È più potente contro i carri armati. Ed è più preciso contro i carri armati. Poi c'erano i cecchini. Marina ha guadagnato. Last Master. Se sta in alto c'ha più precisione. Ed è più brava ad evitare i proiettili. Ok, ok. All right. All right. Eh, RB. Regolaggiamento. Ah, benvenuto. Cosa posso fare per te? Oh, conosco quella idea di per la divisa. Sei il luogotanente Kanter, vero? Sì, sono io. Abbiamo già una certa fama per via di come siamo riusciti a fuggire da Bro. Eh. Sì, siamo dei bravi ragazzi. Siamo dei buoni noi. Abbiamo il suo rispetto, ok. Ok. All right. Vabbè, è così tutto il tempo. Sempre in disastro. Sei il fratello del nostro cecchino? E' uno schimitta. E' leon. Vabbè. Questa è stata l'RD. E' un po' di guardare il luogotanente. Ok, qua dove siamo in da svilupparmi e il luogotanente. Ok. Anche il cararmato. Ok. Eh, si paga. E immagino che il fatto che mi abbia lì dei pulitei che ho pagato. Questo è il soldini. All right. Ok, quando migliora un'arma è automaticamente migliorata a tutti quanti. Ok, perfetto. Andiamo preoccupando di farlo per solo per solo. La stessa cosa per i cararmati. Possiamo migliorare il corpo o aggiungere altre parti. Possiamo scegliere come gestire il luogotanente del campo. Ok. Ok. Sviluppa un lavoro sul cararmato in forma di potenziamento del corpo, dei cingoli o di altri punti deboli e armi. Questa è un'arma di potenziamento del campo. E' un'arma di potenziamento del corpo in forza il cannone e la corazza di base. I cararmati, ovviamente, hanno il miglior corazza possibile. Poi decidere se favorire l'attacco a difesa e alterare il corpo in qualche maniera. Ok. I cingoli punti deboli sono invece potenzialmente di altri parti del cararmato. Ogni parte c'è un'abilità in blocchi. Devo decidere non di riempire il 4x3. E le del vice. Scegliere quali parti opzionali sono meglio per il mio personale. Stereo combattimento e quello che serve di dare. Ok. Armi. Posso migliorare i fucili. Faccio. Tutto fatto. Poi. Migliorare le radiatriche. Faccio. Vedete, erano un po' più precise. Ho un filo più potenti. E qua invece si è solo a potenza. Poi possiamo aumentare le lance. L'anticarro. Questo guadagno. Più potenza. Vabbè. Più potenza. Sempre. Un po' più potenza. E il fucile del cecchino che guadagna anche lì. Più danno. Maggiormente. Ok. Poi. Giorate niente. Uniformi. E difesa. Difesa. Ok. Armature. Ok. E nient'altro. E il cannone armato c'è. Possiamo migliorare qualcosa. Allora. Più range nel cannone principale. Più armatura frontale. Cingoli migliori. Radiatore di difesa. Radiatore di difesa. O precisione. E iniziamo a rinforzare l'armatura. Possiamo imparare altro. Direi di no. Ok. Si esce. Ho speso tutto quello. Yeah. Ok. Sono sempre al lavoro per potenziare e darci migliori e maggiori. Faremo sempre qualcosa di utile. Ok. Si si. Ho solo il sempano. Quindi ci vuole rivedere al più presto. Ok. E con questo direi che è tutto no? Si. Arriva davanti un po' nel libro. Qui. Episodio. Il quartier. Ok. Posso tornare al quartier generale prima di quando voglio. Totalmente per spendere i punti che eventualmente guadagno. Ok. Mano a mano che presso il gioco la base si espande ci saranno altre opzioni. Ok. Quale sarà la battaglia? Trovato il bino. 5 forse. O 4 b. Credo. Non credo che faremo la battaglia in sto periodo. Questa è la battaglia. Questa è la battaglia in sto periodo. Questa è la battaglia in sto periodo. Ok. Edelweiss sarà roba sua per pilotarlo e tenerlo a puntino. Siamo tutti nella stessa squadra. E adesso che sta facendo Issa? Ok. Sta facendo rifornire in tolker armato. Ok. Potenzia tutto il carro. Diciamo il ragknight, il carbonate ragknight. Dal cannone ai cingoli al motore e tutto. Tutto è basato su ragknight in questi giorni. Vabbè. Sì. Infatti il motivo per cui si è arrivati alla guerra. Per mancare. Perché il materiale usato comunque non è... Non è infinito quindi. Chi ha più risorse di lei. Yeah. Non è abbastanza per tutti quindi... Si arriva ai conflitti. Oh. Il regalo sta invadendo per prendersi le risorse di ragknight. Della gallia. Sì. Ah. C'è qualcosa da darci. Ok. Ok. Una pistola a razzo. Pistola a razzo di segnalazione. Di nostro padre. Ok. Un altro ricordo. È stato risistemato da Isara che... È utile, insomma. È usabile. Eh sì. Siamo comandanti di carabateles. Grazie Is. Ok. Ok. Allora, l'occhio. Allora, l'occhio. Allora, l'occhio. Allora. Allora, l'occhio. E ci si sarà. Ok. Vediamo un po'. La prima operazione. La prima operazione. Quindi immagino che questa sia la battaglia. Credo che mi fermerò qui per adesso. Sì, credo di sì. Salvo qua. Salviamo qui. E... Credo che mi fermo qua. Il prossimo video sarà la prima battaglia vera, diciamo. Credo che mi fermo qua. E' tutto per questo video. Alla prossima sarà la prima battaglia. Abbiamo vissuto la nostra squadra. Ho scelto la nostra squadra. E sì, il fatto che è pieno di ragazze forse segno. Sì, dei miei gusti, in questo senso. E niente. Direi che per questo video è tutto. Mi aspetto al prossimo. Che sarà... Forse domani. Forse dopodomani. Massimo dopodomani. Tra domani e dopodomani, insomma. Ok. Alla prossima. Come sempre. Arrivederci. Alla prossima.